Ditemi, tutto quello che vi pare per me è una mancanza di rispetto clamorosa, quella che fa Murigno nei confronti di 60.000 persone che ogni settimana riempiono uno stadio verso un'intera città, che poi non è una città ma è la città, la capitale, per me è una mancanza di rispetto clamorosa nel momento dove devi dare un segnale anche verbale, visto che sul campo non ci riesci, non ti presenti, non ti presenti, non dai nessuna motivazione che sia giustificazione, che sia proclama, non dai nulla a nessuno, ai tuoi tifosi, agli appassionati di calcio oppure anche semplicemente a chi paga un abbonamento. E' qualcosa di gravissimo, signori miei, è qualcosa di inconcepibile, anche perché leggevo in serie A, la prima volta lo puoi fare tranquillamente e non vieni neanche moltato. A me pare che se non pago l'abbonamento da Zoni non lo vedo, non è che mi dicono no, puoi rimanere connesso per un altro mese e poi se continui a non pagarlo ti sbattiamo fuori. No, no, no. Quindi anche sul regolamento ci sarebbe da dibattere e da discutere, ma al di là dei cavigli a cui potrebbe appellarsi Mourinho e che cerca di sfruttare a proprio piacimento, io questo lo trovo, lo trovo un autogol, lo trovo un autogol perché è peggio, è quasi peggio, veramente quasi peggio dell'andare lì a sbraitare contro gli arbitri. Almeno dai un segnale, si sarebbe parlato di un Mourinho che cerca di, come al solito, sbrogliare la matassa parlando di altro piuttosto che non si parli della partita, perché nella partita c'è veramente poco da dire se si valuta la prestazione della Roma. Perché per me c'è un abisso tra Pioli e Mourinho? C'è un abisso tra Pioli e Mourinho perché il primo, quando le cose vanno male, ti spiega il motivo per cui ha cambiato modulo, ti spiega cosa vuole dai propri giocatori, ti spiega cosa non va e si prende anche le dovute responsabilità. Se poi le cose vanno bene, come ieri, ti spiega anche il movimento di Calabria, ti parla di calcio, ti parla di spazi, ti parla di tutto ciò. Il secondo, il secondo ragazzi miei, io non so più valutarlo, non so più valutarlo Mourinho, no? Al netto di essere bravo nell'andare a creare e a fare gruppo, su tutto il resto, francamente, faccio fatica a giudicarlo, anche dal punto di vista della comunicazione, perché non possiamo parlare di comunicazione giusta, di segnale nel non andare a parlare. Valisco, per me è una mancanza di rispetto clamorosa. Va cristante, si presenta cristante, tu mandi i propri giocatori e non li spalleggi tu. E' anche veramente una cosa, una cosa che, giuro, sta cosa mi fa rabbia, perché io, dopo la partita, ero proprio curioso, cioè da appassionato di calcio, da spettatore, da persona che paga l'abbonamento da sonno, ero curioso. Sentiamo come spiega Mourinho questo avvio e come spiega il fatto che per 60 minuti non ha visto palla e per 70 non è riuscito a tirare una volta verso la porta e a creare un pericolo contro un avversario diretto. Ragazzi, ai nastri di partenza, Milan, Roma, stesso obiettivo, entrare tra le prime quattro, non è che bisogna nascondersi, non è che adesso bisogna ammucciarsi, no, no, stesso obiettivo, entrare, almeno, obiettivo minimo, entrare nelle prime quattro. E tu contro un avversario diretto non hai visto mai la palla a parità numerica in campo e anche nel finale riesci a trovare un gol solo tramite una deviazione, buttate lì in qualche modo, provi a buttare la palla in aria. Oggi vede una squadra che doveva dare un segnale, il segnale non l'ha dato, l'allenatore invece, il segnale che sta dando è quello di cercare di... Non lo so, quale può essere un vantaggio? Qual è il vantaggio del non presentarsi nel... Qual è il vantaggio? Io non lo so, francamente non lo so. Quello che posso dirvi è che poi non si presenta perché è arrabbiato per l'albitraggio. Ragazzi, a termine del regolamento, andatelo a leggere il regolamento. Il rigore è tutta la vita. Paradossalmente, se vogliamo, è il Milan che in qualche modo con l'ammunizione di Tomori ha il giocatore che gli salta il derby, la doppia ammunizione, scusate. Quindi io francamente resto pasito. Non credo, nonostante sia visto come un re, come il padre di tutti noi a Roma, non credo che quest'anno i tifosi continueranno a idolatrarlo allo sfinimento se poi saranno questi i risultati. Magari, attenzione, siamo all'inizio, riprenderà in pugno la squadra perché ha dei giocatori che i ragazzi miei sono forti. Cioè, Lukaku, l'abbiamo visto, è entrato nella panchina. Lukaku è uno che se ce l'hai in condizioni normali, non dico ma in condizioni normali, ti fa la differenza come in qualche modo già aveva dato dei segnali in questa partita qua. Quindi i giocatori ci sono, ci sono poche attenuanti quest'anno. L'anno scorso ce l'aveva con la proprietà, ma io sono anche troppo per la Roma, faccio anche troppo, sono troppo. Sono stanco di essere troppo. Poche chiacchiere, poche chiacchiere perché una proprietà come quella dei Fritkin a costo di non guardare neanche il bilancio, perché poi si parla di fair play finanziario o altro che doveva e deve stare attenta. La Roma è quella che ha fatto i colpi più lustri nelle ultime stagioni. Cioè la Roma è quella che un anno dietro l'altro ha tirato fuori gli acquisti almeno sulla carta a livello di nome migliori. Cioè prima Mourinho, poi Dybala, poi Lukaku. Quindi di che stiamo parlando? C'è poco da lamentarsi e c'è da rimboccare la mano. C'è un abisso, c'è un abisso tra Mourinho e Piole. Piole perché? Perché parla di calcio. Cioè lo senti, lo ascolti Piole. Io vi voglio riportare sto passaggio che è fantastico. La posizione di Calabria, no? Che poi ha liberato spazi, no? Ha liberato lo sfogo di Loftuchik. Cioè, come la spiega la posizione da mediano di Calabria? Che poi questa è una guardiolata. Ma c'è chi studia e chi rimane al paleolitico, no? C'è chi studia e chi rimane al paleolitico. Come la spiegano? Vogliamo costruire con Mignan più altri cinque giocatori. Te lo dice chiaramente. Poi che sia un 4 più 1, no? Un 4 più 1, oppure un 3 più 2 o un 2 più 3 è uguale. Ma si tratta di voler costruire con quelli da dietro. Ormai i ragazzi sanno leggere gli spazi e sanno come escono gli avversari. Oggi Calabria è andata a centrocampo più interno e abbiamo lasciato più possibilità a Teo di leggere gli spazi. Altre volte il contrario. E l'abbiamo visto. Questo è parlare di calcio. E spiegare il calcio. Ti spiega i movimenti che vuole D'Aleao. Quelli che fa correttamente. Fa tutto questo dopo le partite. Senza nascondersi. Senza problemi. Cioè non è peccato parlare di calcio. Non lo è. E quando le cose non funzionano un allenatore deve dare delle spiegazioni. Lo deve fare. Innanzitutto perché c'è il proprio ribadisco un obbligo. Io direi più che altro un obbligo morale verso chi sta lì. Verso gli appassionati. Verso i tuoi tifosi. Cioè spiegali qua. Dopo una partita del genere. Gli tifosi ramanista. Gli devi dire qualcosa. Ma glielo devi. Ma glielo devi. Che sia autoflagellarti. Che sia attaccare qualcuno. Che sia attaccare te stesso. Ma dai una scossa. Dai un segnale. Dai qualcosa ai tuoi tifosi dopo che hanno visto una partita del genere. Perché io non lo so. Oggi un tifoso ramanista come possa sentirsi. Cioè se ti trovi dopo tre giornate dopo solo tre giornate a otto punti ripeto da un avversario diretto. Poche chiacchiere. poche storie. E tu contro Milano all'Olimpico non hai visto palla. Ripetisco per me una mancanza di rispetto clamorosa. Sì. Un grande abbraccio Danesco.